Con la Vanoli Basket promossa in Serie A1 e la scadenza a fine giugno delle convenzioni delle squadre che ad oggi utilizzano il Palaradi di Cremona, l'assessore allo sport Luca Zanacchi ha ritenuto indispensabile valutare insieme alle società sportive le modalità di gestione della stagione 2003-2024, optando per una gestione diretta da parte del Comune. Si è condiviso con le società sportive quelli che potevano essere gli scenari gestionali, si è optato per quella che era in qualche misura anche un po' l'indirizzo che stavo cercando di attuare io, che era quello di una gestione diretta da parte del Comune del Palaradi, quindi non più la strutturazione di convenzione ad hoc, ma una gestione diretta da parte dell'ufficio sport della struttura, quindi con la richiesta degli spazi, con una tariffa oraria che le società sportive dovranno corrispondere all'amministrazione. Sono in previsione anche interventi di miglioramento ed efficientamento dell'impianto sportivo. In parallelo noi stiamo strutturando una serie di interventi per portare una serie di migliori al Palaradi, attualmente è un attimino prematuro parlarne, ne abbiamo parlato con le società sportive che sono al corrente, stiamo finalizzando una serie di interventi che sicuramente dovranno migliorare la fruibilità, sia per le squadre che per il pubblico e dovranno sicuramente migliorare anche un efficientamento dei consumi dell'impianto, che sappiamo essere un impianto molto datato. Il Palaradi è utilizzato da Vanoli e UV Basket e VBC ed Esperia Volley, pertanto si rende necessario individuare un calendario per la fruizione del palazzetto. Io l'anno scorso avevo proposto alle società di fare richiesta di strutturare calendari individuando fine settimana dedicati, quindi il sabato sera volley, domenica volley e il fine settimana successivo dedicato al basket. Avevo contattato anche le varie leghe e federazioni che si erano tutte date disponibili. Torneremo a fare questa richiesta. La mia preghiera alle società sportive, tutte e quattro, è stata quella di accogliere quest'anno questa richiesta, che invece l'anno scorso qualcuno non ha accolto, perché questo faciliterebbe molto tutti gli incastri.